amici amiche di radio speranza in blu la radio della chiesa diocesana di pescare a penne ben trovati sempre qui dalla parte dei cittadini questa è la rubrica cura della cisl abruzzo molise studio con voi massimiliano spiriticchio e tutti noi appunto di radio speranza ci avviciniamo ormai al primo maggio la festa del lavoro e dei lavoratori e insomma quale occasione migliore per riflettere insieme su insomma fare un po il punto della situazione chiederci un attimino a che punto siamo con i diritti del lavoro dei lavoratori e lo facciamo insieme a giovanni nodaro che il segretario generale del cisl abruzzo molise che è collegato con noi benvenuto saluto tutti i radio ascoltatori di radio speranza ecco in quale abruzzo dal punto di vista lavorativo e dei diritti dei lavoratori arriva questo primo maggio il primo maggio anche quest'anno cade in un periodo dove abbiamo ancora un po di luci ed ombre intanto rimane sempre il tema pure se abbiamo degli indicatori che ci dicono che dal punto di vista occupazionale siamo un po risaliti ma non siamo ancora a quella occupazione di buona qualità quindi c'è ancora molto precariato e che deve essere sicuramente strutturato poi continuiamo ad arrivarci come nel passato anche abbiamo da poco registrato un altro morto nella provincia terramana per cui si continua a pagare un pegno importante anche sul tema della sicurezza quindi ci arriviamo diciamo speranzosi che quello che abbiamo cominciato a dire già dall'anno scorso e queste grosse opportunità anche economiche di queste dotazioni finanziarie ci dovrebbero diciamo collocare in una posizione un po diversa soprattutto dal punto di vista della strutturazione della qualità stessa del lavoro ecco l'abruzzo è una regione che ha tante opportunità ma lo dicevamo poc'anzi anche alcune difficoltà dovendo indicare le difficoltà maggiori della nostra regione quali andrebbero messe in cima alla lista beh intanto le difficoltà maggiori si ravvisano nella zona più centrale dove diciamo il fenomeno dello spopolamento sta continuando a creare anche disagi sociali c'è una perdita continua di molti settori e soprattutto nei sistemi dei servizi di banche ridimensionamento di uffici postali e chiaramente anche dal punto di vista degli investimenti si comincia a ravvisare sempre più una polarizzazione verso alcune aree poi chiaramente c'è 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 un tema noi risentiamo ancora del conflitto in ucraina quindi la mancanza di di materie prime soprattutto di microchip per cui si risente molto nella zona dove vengono prodotti e quindi parliamo dalla zona di sulmona però si 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 riverbera su tutto il sistema soprattutto quello dell'automotive e laddove la tecnologia richiede anche l'utilizzo di questa di questo di queste materie che che usano microchip che vanno nella nella parte diciamo elettronica delle degli autoveicoli chiaramente questo sta facendo sì che non si possa saturare la grossa azienda quindi mancano diciamo qualche migliaio di di occupati in quei settori e sono settori che poi quando occupano danno occupazione di qualità altro tema è quello di questa transizione energetica che stiamo affrontando dove noi abbiamo settori che hanno aziende energivore e paghiamo lo scotto della mancanza di politiche industriali del passato e di politiche energetiche quindi in molti casi abbiamo un costo prodotto maggiore e il tema su cui ci dovremmo concentrare un po più tutti e su questo noi incalziamo la politica e che poi la transizione anche quella che vedrà verso il green anche l'automotive ci preoccupa perché noi abbiamo un indotto che ha una componentistica che se non ci sarà capacità di riconversione si potranno perdere alcune migliaia di lavoratori è chiaro che noi pensiamo che ciò non debba accadere ma per fare questo c'è bisogno di avere diciamo un'unità di intenti assieme alle istituzioni per comprendere che poi noi dobbiamo anche garantire la transizione della delle capacità delle persone verso questa nuova tecnologia. Ecco lei parlava prima del spopolamento delle aree interne la regione sta mettendo in campo dei fondi proprio per incentivare diciamo le persone a come dire ripopolare quelle zone è un buon inizio ci vuole qualcos'altro? Ma io ritengo che le politiche non sono quelle che oggi vengono messe in campo queste sono delle soluzioni che possono tentare di arginare vuota parte del fenomeno il tema vero è che la polarizzazione e la fuga verso altri territori è un fenomeno che noi difficilmente riusciremo a contrastare questa è stata la ragione per cui si è cercato di fare anche una sorta di massa critica con tutte le regioni del sud per cercare di far comprendere che l'Italia ha due velocità e fin quando rimarranno le due velocità noi rischiamo seppur una regione centrale di avere una certa marginalità noi perché incalziamo sul tema delle infrastrutture perché le infrastrutture se noi consideriamo sia la parte della trasversalità che anche la longitudinalità e c'è ci rendiamo conto che sul sistema ferroviario noi siamo carenti si impiega molto più tempo l'alta velocità non ha diciamo la piena funzionalità ma se pensiamo al tema dell'autostrada dove oggi si trasporta molto su gomma ci rendiamo conto non solo del tema attuale dei cantieri che costituiscono già di per sé un rallentamento ma di come il fenomeno quando nacque negli anni settanta fu fonte di sviluppo perché tutti i siti industriali sono situati alle uscite autostradali oggi è chiaro che avere la la carenza di una terza corsia non può essere un tema che noi possiamo rivendicare solo come abruzzo perché l'abruzzo è vero rischia di pagare pegno nei prossimi anni da qui a 15 anni perché ci sarà una riorganizzazione globale anche degli assetti il tema che pagherà pegno tutto il sud quindi questo è un tema che non va sottovalutato e noi incalzeremo perché quel tipo di opera serve all'italia non solo all'abruzzo altro tema è la trasversalità cioè non è concepibile ancora la mobilità delle merce delle persone nell'attraversare da pescare a roma ancora con dei ritardi che non consentono la piena vivibilità di quei territori perché chiaro che chi si deve spostare per lavoro preferisce poi farlo in una maniera agiata quindi al tema dello spopolamento perché c'è carenza di lavoro rischia di aggiungersi perché c'è già stato sempre più anche il tema di chi non si sposta non fa più il pendolare perché rischia di diventare molto sconveniente quindi c'è questo tema che purtroppo deve vedere impegnato e anche su questo noi ci battiamo a fare in modo che noi dobbiamo cercare di comprendere sempre più cosa dobbiamo formare nei nostri giovani dobbiamo avere un ragionamento aperto e questo purtroppo ancora manca con tutto il sistema per cercare di comprendere cosa dobbiamo costruire come professionalità e capacità nei nostri giovani per non farli fuggire altrove perché è chiaro che chi ha una professionalità e la può spendere a pronte anche di un guadagno importante difficilmente accetta per anche per quanto si possa essere coraggiosi di rimanere poi è chiaro che non è poi tutto così nero però è ovvio che questi fenomeni che sono già in essere che appartengono magari a quelle piccole comunità di piccoli paesi si comincia a spostare anche verso qualche grosso centro per cui noi pensiamo che la capacità di insieme deve essere del paese italia perché un fenomeno che è molto radicato in tutto il sud ed è chiaro che probabilmente come potenzialità l'abruzzo può ancora rappresentare un valore aggiunto per la centralità che ha ecco però è su quello che dobbiamo lavorare perché altri assi sono funzionali quello del turismo perché a questa variegata gamma di offerta sia di mare montagna laghi fiumi quindi c'è un po tutta la strutturazione però molto spesso quello che viene magari rivendicato da chi arriva e che si può andare bene un turismo lento però noi dobbiamo avere una capacità di mobilità delle persone che possa valorizzare tutte le nostre peculiarità ecco noi tra poco torneremo a parlare di questi temi e in particolare ci concentreremo poi su quelli che invece possono essere i punti di forza della nostra regione lo faremo tra poco dopo la nostra pausa musicale sono un visionario vedo quello che non c'è sogno una macchina che riavvolge il tempo sono un visionario vedo quello che non c'è sogno una macchina che riavvolge il tempo il tempo oggi chiamano filosofi se stessi gli insegnanti di filosofia io vedo chiaramente quello che ho dintorno vedo senza aiuto e meglio senza occhiari guardate ragazzi il meridione della terra l'antartide che oggi ci sovrasta lo stomaco del mondo è capovolto come un sacco ci sventola sulla testa solo un visionario filosofo di bottega osserva e se ne frega in fondo perché vede e soprattutto non ricorda vede e soprattutto non ricorda io me li ricordo i fatti e le parole l'odore del desiderio delle belle da marito le corse in macchina per Genova di pietra il suono delle promesse e la luce dentro gli occhi il suono delle promesse e la luce dentro gli occhi e quello che non ricordo non lo vedo come non c'è confine fra i deserti nuoto dentro un lago di montagna e ascolto tutti come da una radio calma di onde è d'acqua sono un visionario vedo quello che non c'è sogno una macchina che riavvolge il tempo abbiamo tutti un amico che non parla oppure non capisce o non ci sente al mio leggo i giornali qualche volta nelle domeniche di sole a tradire Ivano Fossati canta la bottega di filosofia e ci introduce alla seconda parte della nostra trasmissione sempre qui dalla parte dei cittadini la rubrica qui sulle frequenze di Radio Speranza in blu la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne a cura della CISL Abruzzo Molise il cui segretario Giovanni Nodaro è collegato con noi servirebbe proprio una bottega di filosofia nel senso anche il nostro sistema formativo essere ok centrato anche su quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro ma anche formare cittadini attivi e consapevoli è fondamentale vero Nodaro? è chiaro che questo è fondamentale per tutto perché la formazione è alla base di tutto non solo per quello che può riguardare la parte del lavoro ma sappiamo che l'evoluzione della specie si è basata molto sulla conoscenza delle persone quindi rimane un fattore fondamentale noi questo cerchiamo di praticarlo ed è chiaro che quando noi vediamo che ci sono degli attacchi anche magari al sistema scolastic quando vediamo che si ragiona oggi sugli ITS che sono necessari per quello che dicevo prima per formare le generazioni future però non c'è quella capacità di chi ha il dovere di mettere assieme di fare proprio l'incrocio tra domande offerte anche sulle competenze professionali è chiaro che c'è qualche cosa che magari rischia di fare crash nel sistema è che non dà le dovute opportunità quindi è chiaro che questo è importante ma è altrettanto importante avere poi una società con cittadini consapevoli perché noi cerchiamo in questi giorni andiamo a rivendicare il primo maggio lo si va a fare collegando a quanto dicevamo prima in una zona interna quest'anno si va a potenza per andare a ricordare la nostra Costituzione ma anche per andare a mettere in evidenza come purtroppo si vive in un'Italia dove le opportunità non sono garantite a tutti e dappertutto serve anche una consapevolezza perché noi fra poco partiremo anche con una campagna raccolta firme per una proposta di legge sulla partecipazione al mondo del lavoro quindi rendere il lavoratore consapevole noi faremo delle mobilitazioni andremo a Napoli il 20 a rivendicare per dire no ad alcune cose e quello che noi dobbiamo cercare di auspicarci è che quando noi ragioniamo di tutela dei diritti per quanto riguarda la perdita di salario dovuta all'inflazione e quando noi rivendichiamo il rinnovo dei contratti cioè noi vorremmo e questo è quello che ultimamente riscontriamo che manca dalla società probabilmente non riusciamo a far capire che quando si porta a casa un risultato che è un valore economico cresce la ricchezza di un territorio di un paese e se c'è più ricchezza c'è più capacità di spese quindi è un qualcosa che si rigenera e questo va anche contro quelle che sono le battaglie sociali che noi dobbiamo abbattere il tema della povertà il tema della precarizzazione quando noi facciamo le battaglie e parliamo di riforma del fisco è chiaro che dobbiamo sollecitare le coscienze che non è una battaglia che riguarda un soggetto o alcuni soggetti riguarda il sistema della società perché il fisco deve essere equo e giusto perché non si può da una parte rivendicare un rinnovo contrattuale e poi vedere che il tutto viene vanificato da tassazioni locali che sono esagerate da una tassazione nazionale che non prende in proporzione a quando ognuno può dare quando si parla di lotta all'evasione è chiaro che bisogna far crescere attraverso la conoscenza, la competenza, la società perché chi evade non aiuta la società e soprattutto se noi potremmo recuperare attraverso le istituzioni solo quello che si perde attraverso la lotta all'evasione probabilmente potremmo dare più diritti cercare di capire che non si può vivere in una società abbiamo avuto una pandemia abbiamo visto stressato il sistema della sanità e noi stiamo ancora a strillare che c'è necessità di personale medico che non si trova e laddove riescono a fare i bandi perché non si costruisce una società formata non si riesce ancora a capire che bisogna abbattere dei numeri chiusi per trovare medici nel futuro altrimenti c'è un rischio di esplosione sociale quindi è chiaro che la competenza che noi dobbiamo mettere in campo si basa sulla formazione e si deve basare anche su un fatto che probabilmente ci vuole uno scatto di orgoglio di tutta la società per combattere su alcuni fenomeni che per noi sono le battaglie sociali che portiamo in piazza che portiamo nei luoghi di lavoro ma li portiamo per nome e per conto di un'intera società per la convivenza civile e per fare della nostra regione dei nostri luoghi della nostra nazione un qualcosa che è quello che nella nostra Costituzione che tutti rivendichiamo essere la più bella è sancito ma che molto spesso noi riscontriamo non essere attuata in maniera equa è per tu Ecco, volendo invece elencare prima abbiamo elencato come dire dei punti critici della nostra regione invece due o tre punti di forza dell'Abruzzo Ma intanto il primo punto di forza è uno perché prima io ho citato il tema della carenza di infrastrutture allora sapere che siamo una delle regioni che dal punto di vista manifatturiero è tra le prime in Italia questo dimostra una grande capacità di chi ha fatto impresa in questa regione e soprattutto anche delle maestranze che hanno garantito quella qualità di lavoro richiesta da queste imprese la seconda è la straordinaria opportunità che può avere oltre alla manifattura il sistema quello turistico che può essere un secondo volano di crescita perché l'Abruzzo ha tutto ha mare a montagne a laghi a luoghi particolari ha una 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 produzione che cresce sempre di più di prodotti gastronomici enogastronomici di qualità si sta affermando a livello nazionale per cui è chiaro noi spesso rappresentiamo più un'anima critica ma non perché non ci sono delle opportunità però queste opportunità dovrebbero essere diciamo dei volani di crescita a cui si devono affiancare tante altre capacità che ci portano a farlo rivitalizzare come noi vogliamo auspicare quindi avere tutti i territori aperti per il turismo ma tutti i territori pieni di persone che poi le persone e soprattutto i giovani che sono il nostro futuro e che è quel capitale umano sociale indispensabile per garantire anche una sorta di comunità vitale che incrocia la popolazione che è sempre più anziana in Abruzzo e che se non creiamo quelle barriere che fanno rimanere qui i nostri giovani rischia di diventare sempre più pericoloso quindi una grande manifattura che ha un primato che occupa tantissimo di qualità su tanti settori chimico metalmeccanico tessile farmaceutico ci sono imprese di costruzioni importanti è chiaro che molto si è basato anche su un disastro come quello del terremoto ma ha dato occupazione ha dato anche qualità di lavoro e lì si è visto anche il contributo del sindacato perché noi in quelle zone dove si è sviluppato tantissimo lavoro il rapporto che si è tenuto tra il sindacato e le istituzioni ha fatto sì che non si non si sono contati tanti tanti infortuni e soprattutto mortali quindi c'è tanto su cui costruire perché non c'è da battersi se i numeri ci dicono che le cose vanno meglio noi abbiamo il dovere però di dire che se noi vogliamo garantire il futuro a un giovane sì il lavoro ma il lavoro deve essere stabile ben retribuito che dia soddisfazioni e che permetta anche al lavoratore di essere protagonista all'interno della sua azienda ma magari di questo che riguarda l'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione anche del lavoratore alla vita dell'impresa e magari ne possiamo parlare in maniera più approfondita in un'altra puntata perché è un tema a noi caro e su cui faremo una raccolta firme assolutamente un tema centralissimo davvero allora buon primo maggio buona festa del lavoro a Giovanni Notaro segretario della CISL Abruzzo Molise e a tutti i lavoratori abruzzesi e molisani vero? a tutti i lavoratori perché si è lavoratori sempre anche quelle fasce di persone che spesso non sono al libro paga ma che fanno in modo che mandano avanti le nostre famiglie la nostra società e soprattutto a quei tanti lavoratori che hanno fatto grande la nostra nazione che oggi si chiamano pensionati che però continuano a fare il sistema di protezione sociale e di ammortizzatori per le famiglie perché sono figure importanti quelle dei nonni che tanto hanno dato e che tanto continuano a dare ancora alla società e alle famiglie e quindi quando si parla di festo del lavoro il lavoro non ha età il lavoro è per tutte le età noi siamo per quello ben retribuito ma dobbiamo apprezzare anche quando nelle nostre famiglie ci sono questi lavoratori questi angeli che con il proprio lavoro aiutano la famiglia ad andare avanti in un momento in cui per alcune famiglie è ancora complicato quindi buon primo maggio a tutti grazie e buon primo maggio anche a voi che ci seguite da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne a risentirci grazie a tutti